domani è il giorno di ferragosto un giorno di serenità allegria passato con i nostri amici o con le nostre famiglie dobbiamo essere molto attenti al rischio degli incendi boschivi perché con i fuochi liberi che possiamo accendere per festeggiare il ferragosto possono essere involontariamente appiccati degli incendi che poi devastano il nostro territorio quindi sentendoci tutti parte della protezione civile mi raccomando i fuochi solo nelle aree attrezzate esclusivamente nelle aree attrezzate niente fuochi liberi godiamoci questo ferragosto in serenità e preserviamo il nostro abruzzo